Ben tornati sul canale, in questo video andremo a vedere quali sono i popoli che appunto sono presenti in Asia. Fondamentalmente, semplificando ovviamente, abbiamo tre grandi gruppi, il gruppo europoide, il gruppo mongoloide e poi un terzo gruppo che racchiude una serie di popolazioni con delle caratteristiche particolari. Andiamo adesso a vedere il primo gruppo che è il gruppo europoide. Il gruppo europoide appunto è caratterizzato da questi che vedete qui elencati come fenotipi. Quindi abbiamo appunto il fenotipo mediterraneo che abbiamo già analizzato i popoli europei, quindi ti invito a vedere il video appunto sui popoli dell'Europa se vuoi comprendere meglio qual è il fenotipo mediterraneo. Poi c'è appunto il fenotipo iraniano. Il fenotipo iraniano viene anche denominato come fenotipo persiano e si ritrova in quelle aree come l'Iran, l'Iraq, l'Afghanistan e l'Arabia. Da un punto di vista fisico gli iraniani sono molto diversi dai mediterranei in quanto sono longilinei, comunque sia leucodermi quindi con una pelle chiara, occhi e capelli sono neri, la velocità è notevole e sono individui con un cranio molto allungato quindi dolicocefalo. Le labbra sono abbastanza piene, quindi abbastanza spesse e il naso è alto. Poi c'è il gruppo arabo che va a popolare le zone dell'Arabia e della Mesopotamia ma anche dell'Africa settentrionale. Fisicamente sono molto simili ai persiani tuttavia sono leggermente più alti e con la pelle un pochettino più scura. Poi abbiamo il gruppo anatolico che appunto si ritrova in Anatolia con una pelle bianco opaca, dei capelli scuri, una velocità abbondante, un cranio più corto e delle labbra sottili. Il turanico invece popola le aree del mar Caspio e del lago d'Aral. La pelle è bianco giallastro bruna, i capelli e gli occhi sono scuri, è brachicefalo e il naso è prominente. Poi abbiamo l'uralico invece che popola le zone dei monti orari appunto e sono individui più bassi con pochi peli, mesocefali quindi con un cranio né troppo lungo né troppo corto, una via di mezzo appunto e mesocefali. Le ili sono chiare, i capelli sono scuri e ondulati. E poi c'è il gruppo indiano. Ovviamente il gruppo indiano popola prevalentemente come nazione l'India stessa ma più nello specifico se vogliamo dare delle informazioni più concrete dal punto di vista della geografia fisica il gruppo indiano va a popolare le regioni del fiume Indo e Gauge. Il corpo diciamo del fenotipo indiano è caratterizzato da una pelle diciamo bruna e da capelli scuri, neri e anche ondulati. Gli occhi sono a mandorla e le iridi sono scure. Sono individui come potete vedere in questa foto tolicocefali quindi chiaramente con un cranio tendenzialmente lungo, sono longilinei alti con un naso alto, delle labbra abbastanza piene e una regione dell'occipite cioè della nuca abbastanza marcata. Altro gruppo è quello degli Aino che si trovano nelle aree al nord del Giappone, sono individui bassi, 158 centimetri come altezza media, pelosi con una pelle brunoscura, dolicocefali con degli zigomi marcati e delle arcate sovraorbitare marcate, un naso prominente e capelli ondulati. Poi abbiamo appunto anche questi gruppi qui che vedete, Tunguso, Sinico, paleomongolico, tibetano e siberiano che rientrano invece nel ceppo di popoli asiatici, nel ceppo mongoloide appunto e quindi abbiamo questi vari gruppi, i Tunguso che popolano le aree della Mongolia, della Siberia e sono robusti e bassi con un terace ampio, degli zigomi pronunciati e la presenza degli occhi a mandorle e quindi della cosiddetta plica mongolica. Anche i Sinico si ritrovano nelle zone della Cina settentrionale e della Cina centrale, anche se alcune varianti dei Sinico si possono anche riscontrare in Giappone. Sono meno robusti dei Tunguso ma più alti e sono mesocefali. Poi abbiamo il ceppo paleomongolico nelle zone dell'Indocina, della Cina meridionale e del Giappone, anche questi con la plica mongolica, con la plica epicantica e poi c'è anche il gruppo tibetano e diciamo siberiano. Per quanto riguarda i tibetani si trovano appunto in parte nelle vali dell'India e anche nel Tibet, la pelle è brunolivastra, i capelli sono lisci e neri, gli occhi scuri sono o brachicefali o mesocefali e la statura è bassa. I siberiani invece ovviamente come dice il nome stesso si ritrovano in Siberia, ma più nello specifico nella Siberia settentrionale e orientale e hanno molte somiglianze con gli eschimesi. Sono individui brevilinei, dalla testa larga, dalla faccia quadrata, dalle zigomi pronunciati, labbra sottili, gli occhi tendono ad essere più stretti e non c'è però comunque sia la plica epicantica, la pelle bruno chiara, con tonalità comunque sia tra il giallo e il rossiccio. E poi ci sono questi altri gruppi di popoli asiatici particolari che hanno delle caratteristiche somatiche di complesso inquadramento, quindi è difficile dire sono appunto del gruppo mongoloide, sono del gruppo europoide, è difficile, sono delle forme primitive di umani, sono delle forme più recenti, gli antropologi non l'hanno ancora capito neanche Biasutti, che sono dei più grandi antropologi e quindi abbiamo appunto i Vedda che sono per esempio dei cacciatori raccoglitori che hanno un prognatismo alveolare marcato, gli andamanesi nelle isole andamane, i paleo indiani che sono prettamente di pelle scura quindi melanodermi e poi ancora i pigmei asiatici anche denominati come negritos che si ritrovano appunto nell'arcipelago dell'Indonesia e sono individui comunque sia appunto molto bassi tra i 146 e i 158 centimetri e poi ci sono anche gli indonesiani che sono bassi con capelli neri ondulati, mesocefali e delle labbra carnuse. Bene io con questo video sui popoli asiatici ho terminato, se il video ti è piaciuto ti invito a lasciare un mi piace a iscriverti al canale e ci vediamo al prossimo video.